La Fiorentina ha dimostrato sempre di giocare a viso aperto che quest'anno nel Girone ha questa tradizione di cercare sempre di fare gioco quindi direi che andremo in Inghilterra al 19 sicuri di poter disputare un'ottima gara Sicuramente la nostra ambizione è quella di ritrovarci qui più avanti per un altro sorteggio come ha detto lei giustamente abbiamo pescato un livello di difficoltà sicuramente medio-alto però insomma arriveremo sicuramente il 19 di febbraio pronti